Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo video aggiornamento molto veloce sulla questione legata all'analisi ciclica di Bitcoin e al prezzo per vedere se è cambiato qualcosa negli ultimi giorni, ma in realtà non è cambiato molto, se non che Bitcoin aveva attentato una fase rialzista che era quella che abbiamo visto poi mercoledì facendo un nuovo massimo nella giornata di martedì a 8 agosto intorno ai 30.200, poi ha testato i 30.170 prezzi di Bitfinex nella giornata di mercoledì e ha iniziato la sua campana discendente riappoggiandosi a queste che sono le due medie mobili che a questo punto sono importantissime, la cui tenuta diciamo è fondamentale per la durata di questo movimento, movimento che a questo punto è nuovamente incerto perché il rialzo con il breakout di queste medie mobili lasciava ben sperare che Bitcoin potesse in effetti tentare un allungo almeno in zona 30.500-31.000 per poi andare a chiudere questa struttura ciclica mensile, cosa che al momento non sembra proprio essere nelle corde di Bitcoin perché in realtà il re delle cripto è diventato anche estremamente debole negli ultimi giorni, guardiamolo ad esempio anche su quelli che sono dei cicli un pochettino più piccoli, quindi con time frame più brevi. Con la struttura ciclica e anche l'oscillazione di quello che è la fase di breve di Bitcoin che tra le altre cose io utilizzo il grafico a 90 minuti, potete utilizzare anche quell'orario B, orario quindi due ore non cambia moltissimo diciamo per fare queste analisi. Allora come vedete da questa parte qui quindi appena il mercato ha fatto un balzo in pratica si è andata a riproporre la stessa struttura che avevamo visto nel ciclo settimanale precedente, quindi con una fase di lenta agonia fino in pratica a riassorbire l'intero movimento rialzista che era avvenuto nei tempi estremamente veloci, quindi anche da qui movimento veloce al rialzo che genera appunto questa struttura e poi lenta agonia che sia praticamente un déjà vu di quello che è già stato, in questo caso il precedente ciclo settimanale è stato chiuso sul minimo del 7 agosto e qui teoricamente andremo intorno a domenica, quindi dopo domani, lunedì prossimo. Non è detta questa cosa perché io non sono molto avverso, diciamo non sono molto convinto che i mercati ripetano i loro stessi atteggiamenti in maniera così costante e continua in modo da dare chance ai trader di insomma seguirli in maniera semplice, questo sono sincero. C'è da dire che però questo movimento sembra veramente la fotocopia del precedente, è incredibile se voi andate a disegnare in pratica una specie di triangolone fatto in questo modo e la fotocopia in pratica di questo movimento. Questo livello però ha superato il precedente massimo con un tentativo andate a un male appunto di superamento di quella che è la resistenza madre a questo punto 30.000 dollari, 30.500 io starei diciamo per essere più sicuri e stare con la manica più larga. E tra le altre cose riportandosi anche al di sotto di queste due mediomobili ha innescato quello che teoricamente da un punto di vista ciclico significa fase di chiusura del ciclo settimanale che però ancora dovrebbe perdurare per altri due giorni quindi teoricamente questa fase potrebbe ancora essere ribassista fino almeno a domenica prossima e un ribasso anche un po' eccessivo, un po' veloce che non riesce a recuperare. Infatti proprio nella stessa giornata di oggi, proprio poco fa, il mercato si era rispinto intorno ai 29.500 tentando di superare queste medie che però vedete hanno retto e ricreando poi una candela praticamente full red. Ovviamente parliamo di trading veloce quindi la struttura in questo momento è in equilibrio intorno a questi prezzi. Un breakout nuovo della media mobile in questione, quindi un breakout in pratica ragazzi dei 29.600 dollari di prezzi Bitfinex sempre, innesca sicuramente una nuova fase up che può tentare con tranquillità anche di fare nuovi massimi ma addirittura riprendere il precedente touch dei 30.200, però se non supera questo livello che appunto questo qui difficilmente una cosa del genere potrà avvenire cioè questo è un primo segnale assolutamente importantissimo che Bitcoin dovrebbe fare. In più c'è da dire che anche la tenuta di alcuni livelli di supporto sono fondamentali secondo me già il raggiungimento dei 29.200-29.300 stancisce che questo ciclo settimanale va in chiusura e quindi bisogna aspettare poi il prossimo per provare a fare una nuova fase magari replica in pratica la stessa struttura e fa pump and down. Sembra un po' manipolato tutta questa struttura fatta con il pennarello quasi però è in effetti un po' così la questione. Volevo poi farvi vedere quelle che sono le strutture invece più a lungo periodo di Bitcoin con un time frame weekly che non guardiamo già da un po' di tempo. Qui stiamo seguendo quello che è il ciclo annuale intero con i quattro quadranti che vi ripetevo quindi siamo nella zona centrale di questi quadranti e in particolar modo si evince la tenuta della media mobile che in questo momento è la 20 e la 12 periodi e poi ci sarà la zona di supporto veramente molto importante di Bitcoin che è questo piccolo spazietto qui fino alla 26 ne avevo già accennato nei video precedenti questo livello che adesso coincide intorno ai 27.800 è molto importante quindi un'eventuale fase di recupero di Bitcoin deve partire a breve nell'arco della prossima settimana 10 giorni non di più perché non abbiamo spazio non abbiamo tempo per tentare di andare a fare nuovi massimi altrimenti si va sicuramente a chiudere una struttura ciclica e soprattutto il breakout della media 26 che è la media 26 settimane che è la media quindi del ciclo semestrale e innesca in pratica la fase teoricamente di ribasso appunto del ciclo annuale che poi è molto lungo quindi l'idea che faccio una cosa del genere adesso è un po' forse prematura bisognerebbe attendere io sono ancora dell'idea che il mercato possa tentare la rottura di questo livello la rottura di questo livello che se guardiamo i 30.500 ragazzi che se guardiamo il time frame quickly risulta e appare evidente essere la resistenza più importante di questa fase perché è stata toccata diverse volte dal mercato qui non è che la resistenza è la shadow rialzista che è la shadow rialzista è arrivata fino a 31.600 circa ma è questa fascia qui ragazzi i 30.500 questa zona qua perché qui siamo arrivati scusate a 31.600 non 30.600 mentre la zona di chiusura la close più alta l'ha fatta il giorno la settimana del 26 di giugno a 30.600 dollari poi tutte le altre close sono inferiori ma comunque vicini ai 30.500 quindi la resistenza 30.500 è la resistenza che fa da padrona in questa fase ed è fondamentale per Bitcoin romperla per spostarsi in una nuova zona di oscillazione perché è l'ultimo scoglio ed è uno scoglio rilevante ragazzi prima della chiusura del ciclo annuale in quanto la chiusura del ciclo annuale che parta da questi prezzi non è una cosa così buona perché in realtà è pericoloso il mercato può riprendere con grande tranquillità una fase ribassista che può spingere a prezzi molto bassi il mercato mentre se noi andassimo a breccare questo livello di resistenza anche il motivo per il quale questo è un livello veramente importante noi andiamo a eliminare anche l'ipotesi di un pullback di questa zona di minimo e quindi ci spostiamo in una nuova fascia di oscillazione tra i 35 e i 42 a dire la verità è tra i 32 e 42 però diciamo l'equilibrio è intorno ai 35 che lascia spazio a bitcoin poi di respirare un po' e magari anche se dovesse andare a fare una cosa del genere prima di andare a chiudere il ciclo annuale poi ci chiude un ciclo annuale intorno ai 28 29 e va bene quindi la campana ribassista la farà comunque però incide in maniera diversa rispetto a se partita da qui perché se partita da qui incide in maniera più importante ci possiamo spostare con grande tranquillità anche intorno ai 21.000 dollari quindi come vedete la differenza c'è e come quindi questo livello di resistenza è fondamentale ragazzi io penso che solo nei prossimi giorni questo livello potrebbe essere intaccato c'è da dire che la struttura di questo ciclo trimestrale è ancora incerta quindi non sappiamo se qui il ciclo mensile può svilupparsi anche perché questo tentativo di break che però è stato fake non ci dà buone indicazioni in quanto lascia ancora l'ipotesi aperta che questo mensile possa appartenere a questi tre movimenti e che quindi possa essere ribassista come vi dicevo nell'ultimo video perciò capite bene quanto la logica di superimento di questo livello è fondamentale tutto credo rimandato la prossima settimana in più vi faccio vedere anche un grafico che l'altra volta non lo avevamo visto cioè quello dei nasdaq e quello di nasdaq 100 perché il grafico di nasdaq 100 è in una fase di chiusura ed è in una fase ribassista che ha anche superato tra le altre cose al ribasso la sua media mobile più importante di tutte la 21 giorni la media mobile che ha sancito in pratica la tenuta dell'intero trend del ciclo annuale di nasdaq vedete qui la struttura poi la chiusura del ciclo vedete come la media ha tenuto l'intero movimento attenzione che in questo caso non è una media che funge da supporto ma funge da trend e quindi anche il passaggio al di sotto della media è consentito durante le fasi di chiusura cicliche è importante dove siamo qui siamo in una di quelle chiusure cicliche appunto importanti ma facciamo attenzione a un valore che è la distanza della media mobile a 21 periodi dal minimo che viene consentito qui per esempio la distanza maggiore dell'intero ciclo annuale anche se l'annuale in realtà è partito a ottobre però qui ha fatto una barra di accumulazione una specie di lingua è stata di circa il 5% se io vado a calcolarlo ai prezzi attuali siamo vedete al 3 e 4 quindi 3 e 4% con una struttura dalla breakout di questa media di 4 e 7 e 4 e 5% in pratica ragazzi Nasdaq sta per arrivare cioè se scende al di sotto di 4 e 5 punti percentuali indica una perdita di fase di alzista rispetto a tutto l'intero movimento che lo aveva accompagnato dall'inizio di questo ciclo annuale e ricordiamoci che è difficile che Nasdaq prima del ciclo annuale vada a fare un nuovo massimo cioè in sostanza questa potrebbe essere la prima avvisaglia dell'inizio del ciclo annuale in chiusura per Nasdaq che potrebbe avere questo movimento qui e andare in chiusura a novembre attenzione perché se tutto va bene e questa zona viene replicata così come la stiamo disegnando per gli amanti del investimenti nella old economy questo è un bel che poi tanta old non è diciamo Nasdaq è più tecnologia è un bel appunto anche di valutazione per eventuali ingressi eccetera quindi poi magari novembre dicembre ne riparliamo però attenzione perché la struttura ciclica dell'annuale di Nasdaq potrebbe essere anche controproducente per Bitcoin perché potrebbe appesantire l'oscillazione stessa di Bitcoin non rendendogli facile il superamento dei 30.000 perché come dicevi i 30.500 devono essere superati a breve ma noi abbiamo Nasdaq in fase negativa se noi andiamo a vedere i cicli invece inferiori di Nasdaq non che siano correlati ultimamente Bitcoin fa un po' quello che vuole siamo in dirittura di arrivo di una chiusura di un ciclo da probabilmente 50-60 giorni che però vedete ci porta fino a mese di agosto quindi ancora un po' di tempo c'è può chiuderlo un po' prima questo ciclo si può fare un ciclo da 53-56 ma è corto è un'anomalia e comunque parliamo in ogni caso della prossima settimana lunedì di agosto insomma 21 agosto quindi in pratica in sostanza dovremmo avere una continuazione di questa struttura per un'intera settimana magari ecco l'unica possibilità secondo me di aiutare bitcoin in questa fase è che nasdaq provi un rimbalzino a testare per esempio i 15.500 e poi magari vada a fare questa chiusura e sulla ripresa di questo movimento bitcoin potrebbe avere il lancio però era giusto per farvi capire come nasdaq ha iniziato la fase di chiusura probabilmente del ciclo annuale lo staremo a vedere perché è anche una buona opportunità ma poi se volessimo proprio essere pignoli ragazzi qui c'è da discutere su una serie di cose qui abbiamo un massimo di lungo periodo parliamo e qui abbiamo una lower high inferiore di lungo periodo attenzione a questa figurazione perché è delicata un crash un crash rilevante importante nei prossimi mesi dei mercati classici configura il concetto del mercato cammello di cui abbiamo parlato e di cui vi parlavo che potrebbe accompagnarci vista anche la situazione economica e le possibili recessioni per i prossimi anni potrebbe accompagnarci per veramente tanti anni a venire ed è un mercato che è interessantissimo per i trader molto difficile invece per gli holder anzi praticamente ingestibile per un holder perché stare dieci anni alla finestra per moltissimi potrebbe voler dire in pratica non avere più spazio temporale no di fare accumulazione poi dipende dall'età però ovviamente moltissimi saranno tagliati fuori da un mercato del genere quindi facciamo molta attenzione questa era carina appunto da farvelo vedere allora prossima settimana rilevante probabile fase di ribasso ancora per qualche giorno per bitcoin perché questo ciclo settimanale si è conclusa la parte rialzista molto brevemente troppo brevemente e questa sembra appunto la fotocopia del ciclo precedente vediamo che succede in questo weekend io nel frattempo vi auguro buon weekend e mi comunico che la prossima settimana non è detto che riesca a fare video ovviamente darò tutti gli aggiornamenti in academy qualora il mercato facesse cose strane se riuscirò a fare video comunque in ogni caso li pubblicherò anche su youtube ragazzi altrimenti settimana di vacanza e anche da youtube vi ringrazio intanto nel frattempo e come sempre mettete mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto così mi date una mano ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti